Torna il concerto natalizio del liceo musicale Petrarca di Arezzo ad ospitare le note dello storico istituto cittadino con strumenti e voci ancora una volta alla sala vasariana in piazza del Praticino. Sono occasioni fondamentali perché i ragazzi possono mettere in pratica quello che studiano e imparano durante le ore di lezione, oltre che essere momenti importanti per restituire alla comunità e prima di tutto alle loro famiglie appunto il risultato del loro lavoro. Noi ci teniamo molto quindi anche il concerto di Natale è un'occasione che è diventata tradizione nel tempo, non ci abbiamo rinunciato neanche nell'anno della pandemia, tanto che abbiamo fatto un concerto online e siamo invece ora contenti di poterlo fare in presenza e quest'anno sarà giovedì 21 alle ore 18 nella sala vasariana che è il nostro bellissimo teatro messoci a disposizione dal comune. Il concerto di Natale sarà trasmesso dalla nostra emittente la mattina di Natale. Quest'anno ci fa particolarmente piacere che oltre a poter offrire il concerto in diretta per chi vorrà partecipare, ci fa piacere questa opportunità data da Arezzo TV che ritrasmetterà il concerto nelle giorni successivi in modo che possa essere visto anche da tutte quelle persone che non hanno avuto modo di vederlo all'interno della sala.